Bella come le figlie, Yolanda Adid in prima fila alle sfilate per sostenere le sue figlie Yolanda Adid è l'ex modella e star della TV americana tornata sulla cresta dell'onda grazie alle sue figlie Bella e Gigi. Le due ventenni sono le top model più richieste degli ultimi tempi e la loro sola presenza riesce ad attirare l'attenzione dei media. Di recente hanno preso parte a diverse sfilate della Milano Fashion Week e a guardarle dalle prime file c'era proprio mamma Yolanda, che ha dato prova di essere sempre pronta a sostenerle. Basta guardare qualche sua foto per vedere che è proprio da lei che le top model hanno ereditato lo splendore e il sex appeal. Chi è Yolanda Adid? Yolanda Adid, nata a Van Den Rijk, è la mamma delle due modelle del momento, le sorelle Gigi e Bella. È nata nel 1964 a Papendrecht, nei Paesi Bassi, e quando era solo una bambina ha perso il padre in un incidente d'auto. Fin da giovanissima ha mostrato la sua passione per la moda, calcando la prima passerella per il designer olandese Franz Molenaar. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa, ha firmato un contratto con la Ford Models, ha siglato a Parigi, Sydney, città del capo, Tokyo New York. Nel 1994, dopo aver sposato Mohamed Adid, ha poi deciso di trasferirsi a Los Angeles per crearsi una sua famiglia. Ha infatti avuto tre figli dal primo marito, Gigi, Bella e Anwar, ma ha divorziato nel 2000. L'anno successivo ha sposato il musicista, compositore e produttore David Foster, ma ha divorziato ancora una volta nel 2017, cambiando definitivamente il suo cognome in Adid, così da renderlo uguale a quello dei figli. E' diventata una star della tv americana grazie al reality show The Real House e Vive se ancora oggi non perdi occasione per prendere parte agli eventi mondani più ambiti. Un esempio? Negli ultimi giorni è stata avvistata in prima fila alle sfilate della Milano Fashion Week come quella di Moschino per sostenere le figlie Gigi e Bella, le assolute protagoniste della settimana della moda. Iolanda Adid, a 53 anni è ancora bellissima. Iolanda Adid ha ormai raggiunto i 53 anni ma, nonostante ciò, non ha perso lo splendore che le ha permesso di diventare una modella da giovane. Ha i capelli biondi, gli occhi chiari, un sorriso smagliante e un corpo da urlo. Certo, ha qualche ruga sul viso ma è impossibile non notare l'impressionante somiglianza con le figlie. Sarà che la bellezza è qualcosa di ereditario o che la mamma è sempre una vera e propria eroina per le proprie bimbe ma l'unica cosa certa è che Gigi e Bella sembrano essersi ispirate proprio a lei. Sono diventate delle top model, calcano le passerelle internazionali più ambite e rendono fiera la loro madre. La cosa incredibile è che Iolanda è così meravigliosa, giovanile e in forma che potrebbe essere tranquillamente scambiata per la sorella delle sue figlie. Insomma, la padrona di casa di non è solo una mamma amorevole, ha anche fascino da vendere e sembra aver insegnato tutti i trucchi del mestiere alle sue bambine, cosa potrebbe chiedere di più?.